Allora è il momento di consegnare gli attestati dei ragazzi che hanno ricevuto il 10, il 10 e l'ode e quindi la premiazione e la consegna avverrà istituto per istituto, noi chiameremo il dirigente che riceverà gli attestati e poi li consegnerà ai ragazzi, a voi che rimarrete al vostro posto, dopodiché vi alzerete in piedi per una piccola foto ricordo e poi così avanti proseguiremo tutta la premiazione. Allora iniziamo dall'istituto complessivo Olivieri con la terza A e iniziamo con un 10 e l'ode, Arcangeli Margherita, Pietro Baldelli, Ancora un 10, Arianna Baldini, Cesare Barriari, Chiara Belardinelli, Agnese Guerra, Agnese Guiducci e Giacomo Scrillatti e ancora passiamo alla terza B, Francesca Carnali e Alessandro Uguccioni e ancora la terza D, iniziamo con un 10 con l'ode per Sonia Coppola e ancora un 10 per Alice Fiorentini, non c'è, perfetto, la salutiamo e Maria Vittoria Moschetti. Beh, ragazzi, chiedere un ulteriore applauso sarebbe un po' troppo ma grazie, complimenti di cuore a tutti quanti i ragazzi di tessuto comprensivo Olivieri e grazie alla professoressa Fabrizia Massei. Chiedo ai fotografi se abbiamo la foto di gruppo, ce l'abbiamo? Aspetta! Rullino, rullino i tamburi, grazie, bravissimi! È arrivata Alice, Alice dov'eri nel Paese delle Maraviglie? Alice si era persa! Bravissima, brava, brava che hai ritrovato la strada! Abbiamo grazie Sofia per la pazienza! Jonathan Calbini, 10! Lorenzo Di Giorgio, 10! Lorenzo Mastropietro, Pietro Pietro, 10! Ah, io chiedovenia se sbaglio, lo faccio in buona fede, Samena Ozia, 10! E io darei anche un 10! Però il valore è quello! 10 elode anche a solidea! Allora ragazzi, foto di gruppo perché di queste cose nella vita, eh? Accadono! Questa cosa del 10 mi ricorda un po' un programma televisivo, eh? 10! 10! 10! 8! Cioè non c'è altro dopo il 10! Bravissimi, bravi, bravi, bravi! Bravi genitori, bravi per la pazienza! Vorrei quasi tornare piccolo per poter avere un 10 elode anche! No, 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 meglio di no, meglio di no! Allora, proseguiamo con l'istituto comprensivo Luigi Pirandello a consegnare la dirigente Cinzia Biagini, eccola qua, sta arrivando! Allora, partiamo con la scuola Pirandello, terza A, il 10 è per Adam Giommi, ci chiederemo ma perché non eravamo in prima fila? E proseguiamo con la terza B, partiamo con un 10 con lode per Luca Benvenuti! Thomas, falli stare in piedi! Ragazzi, vi chiedo di rimanere in piedi dopo che avete avuto l'attestato perché riusciamo a vedervi prima di tutto e poi facciamo anche una bella foto! Grazie! Proseguiamo con un 10 per Leonardo Gravagna e ancora un 10 con lode per Filippo Mariani! Eccolo lì! Ah, adesso! L'abbiamo fatta apposta! Terza C, non so se prenderò un 10 con lode, probabilmente no, per Alicia Iuhunino! No, ho preso questa! Abbiamo, ci abbiamo preso! Unico! Ce lo dirà dopo! E poi 10 con lode per Elisa Marchionni! Eccola lì! Proseguiamo con la terza D, un 10 con lode per Arianna Renzi! E ancora un 10 per Alessandro Tamburini! E ancora sempre per la scuola Pirandello Barocci, terza A, un 10 per Giorgio Fiorelli! E ancora un 10 per Serena Marchionni! Non c'è! E ancora un 10 per Alessandro Pentucci! Eccoli qua! Anche per loro foto di gruppo! Ecco che la preside si avvicina! Tutti insieme! Ecco! Antonio cerca la posizione perfetta! Perfetto! Belli e grazie! Allora, per la nuova scuola Campanini abbiamo due 10 con lode e quindi abbiamo Caterina Scatassa! 10 con lode! Emma Valeri! 10 con lode! Rimanete in piedi! Grazie ragazze! Abbiamo Aurora Cecchi! 10! Giacomo Fratelloni! 10! Anna Pintonello! 10! Tripudio! No io volevo capire se vuoi portare a cena il ragazzo che suona o il padre? Non ho capito perché voglio portare a cena! No 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 no! Volevo capire! No no no! Grazie ragazzi e complimenti ancora! Bravissimi! Proseguiamo con l'istituto comprensivo Gaudiano! Qui ragazzi mettetevi il cuore in pace! La lista è lunga e prestigiosa! Ma tranquilli perché il sole sta sparendo un po' alla volta! Sta arrivando lunga! Grazie a Dio l'astronomia non ci delude! Allora intanto chiamerei la dirigente Angela De Marchi! Che questa sera farà il bis perché è anche alla guida della Dante Alighieri! Cominciamo con la terza! Lucrezia Borri! 10! E ancora Ginevra Casali con un altro 10! Vittoria Cecilioni! 10 con lode! Eleonora Agnudi! 10! Matilde Mattioli! 10! Lucrezia Monti! 10 con lode! E ancora Enrico Passetti con un bel 10! Ti facciamo alternati? Vai! Ragazzi il più bel sorriso anche con gli occhi si vede quindi per il fotografo! Preside mettiti vicino ai tuoi hai fatto bene a mettere il tacco basso perché stasera ti facciamo camminare! Grazie! Della terza B si preparino Matilde Animalini! 10! Ecco la Matilde! Lorenz Armiri! 10 con lode! Com'è che Lorenz sei lì? Lui è uno controcorrente! Allora! Esatto! Dopo dobbiamo fare la foto di Curuppo! Dopo scendi! Mascherina e scendi! Camilla Bernabè! 10! Alida Campana! 10 con lode! Non si scherza! Antonio Coppola! 10! Cecilia Grelli! 10! Caterina Mia Minius! 10! Emilia Tucani! 10! Non c'è Emilia? Ragazzi visto che possiamo sfruttare l'occasione dov'è Lorenz? Lorenz lei hai raggiunti? Dai 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 che questo è importante dai 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 grazie ragazzi mettetevi su più file così vi fanno una bella foto una foto che ha senso non importa come non averlo l'ho detto ok grazie! Bene! Grazie! Terza C! Sempre la Gaudiano sempre Angela De Marchi a consegnare Edoardo Benini con un bel 10! A lui alza anche le mani è grande l'ha detto proprio io sono un campione bravo Edoardo Claudio Giuseppe Ceccolini 10 con lode eccolo lì Stefano Ciaffoni 10 Tamas Alessandro Exedi 10! David Ernst 10 con lode e ancora Gloria Sconciafurno 10 con lode non c'è non c'è Beh 10 con lode comunque c'è la Raguara è il suo nessuno glielo porta via nessuno glielo toglie Gaia Serafini anche per lei 10 con lode in piedi ragazzi tutti in piedi ragazzi facciamo la foto di gruppo anche per voi la foto di gruppo che credo che anche la classe incida nel nel ottenere un trafardo molto importante secondo me quando si crea una bella sintonia adesso alla preside noi glielo chiediamo da qui perché sarebbe un dispetto però credo che avere degli amici in classe vuol dire esatto esatto ci si da ci si aiuta e ci si stimola a vicenda bisogna anche dire che in questa scuola alla Gaudiano addirittura 36 sono stati i 100 totali di cui 12 i 10 era già passata alle superiori è sempre il problema guarda che loro sono attenti sembra che siano sotto il sole storditi dal sole ma sono attenti terza di Antonia Alimenti 10 Diego Molinari 10 anche qui erano lontani bravi 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 faccio anch'io la terza E terza E fai anche la terza E se ne avevi pochi vai allora terza E Clelia Fancello 10 Elisa Martinelli 10 con lode che acclamazione loro vorrebbero correre e abbracciarla ma non posso mi spiace c'è il covid non si può Camilla Pierucci 10 Chiara Pizzulli 10 Alice Ricci 10 con lode Eccoli lì Io vi porterò il microfono perché so che voi ne avreste da raccontare ne avreste da raccontare questa è la cosa che ci manca di più ancora ma infatti ragazzi ci rivediamo quando prenderete 100 a quel punto potremo avere dei microfoni da portarvi e ci racconterete perché le storie più belle sono sempre quelle che non si raccontano e che sono quelli i protagonisti a viverle purtroppo però fortunatamente abbiamo una bravissima giornalista che si chiama Solidea Vitali Rosati che spesso quelle storie le racconta sui quotidiani quindi grazie Solidea per il tuo grande contributo alla nostra città io ringrazio perché è un'opportunità grandissima che fa capire quanto bello c'è allora non bisogna sempre lamentarsi proseguiamo terza F andiamo con Emma Battistoni per lei un bel 10 e ancora Francesco Cascone 10 con lode Matilde Di Carlo 10 Sofia D'Urso eccola lì 10 Ludovica Gamba anche per lei un 10 Diego Razzi 10 con lode dove è Diego? non lo vedo non c'è è già partito Lucille Bianca Siepi un bel 10 e anche lei non c'è vabbè la salutiamo dovunque sia in questo momento sei andata a fare un giro lo sappiamo bene grazie ancora a voi foto adesso ci prepariamo con la Dante Alighieri allora il primo il primo il primo supereroe per l'impegno per la pazienza per non aver perso la motivazione che è la cosa più difficile da coltivare perché ne abbiamo tante di impulsi e di spunti è Maddi Adiedi scusami scusami Maddi scusami Maddi 10 abbiamo con lui nella stessa classe la terza A Riccardo Madeddu 10 ole Riccardo voilà poi continuiamo perché in questa scuola addirittura 20 di cui 10 con lode presidente ma che cosa eh? cosa fate in questa scuola? coltivate eccellenze le lodi esatto allora noi abbiamo la terza B con Matteo Ciocchetti 10 Matteo in piedi goditi l'applauso in piedi dai goditelo ah non c'è ah non è lui si porta a casa 2 è un dissenso questo oppure non c'è? non ho capito non c'è lui se ne porta a casa 2 da 10 ma vabbè avrà le sue motivazioni non l'abbiamo capito preside procediamo allora Diego Rossi 10 con lode oeeh brilla la preside era particolarmente vibrante abbiamo Sofia Toni 10 con lode salte su ragazzi dov'è Sofia? non c'è ok Francesco Vincenti 10 con lode grazie Francesco per essere con noi prego con la terza C vado io con la terza C partiamo con Gaia Giorgetti 10 Gabriele Pensalfini 10 con lode bravi e Fabrizio Pianosi con un bel 10 eccoli là bravi 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 anche per loro la foto insieme chissà che estate meravigliosa che passerete perché eh? un orizzonte libero loro proprio gireranno tutte le state con il diploma lo porteranno via sempre con loro ehm mi sapevo e abbiamo per la terza D Federica Cicco 10 Emma Dolci 10 con lode Emma eh poi andiamo con Andrea Pappalardo 10 Alberto Tommassini 10 Alberto Tommassini 10 con lode ragazzi mettetevi vicini perché il fotografo i miracoli non li fa eccolo 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 bello questo sarà un piccolo sacrificio che e anche il fotografo io ce l'ho ancora le foto quando andavo a scuola non le ho buttate sì io penso che ero quasi 20 kg in meno non ci crederete lo so è per quello che non le abbiamo buttate perché eravamo meglio esatto proseguiamo terza F partiamo con Caterina Balducci 10 con lode non c'è Caterina non c'è Caterina allora proseguiamo con Marco Fratesi lui c'è Marco 10 10 Ludovica Giunta anche per lei è un bel 10 Merli Locca bello questo nome 10 con lode Giulia Marino 10 e Alessandro Scarpino 10 con lode e Caterina Attacchi anche per lei è un bel 10 con lode bravi 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 ecco ecco la foto di gruppo ecco la foto di gruppo come va genitori la cosa che mi chiedo è che mi sono orgogliosi di questi attestati se ne ho un po' più inizio io questa volta inizio io partiamo con la terza A Enrico Battaglia con un bel 10 Enrico rimani lì arriva il fotografo e ancora Sofia Cagnetta 10 con lode Daniel Giampaoli 10 con lode e ancora Paolo Jacopini con un bel 10 ok lo riconsegniamo e Tommaso Storini un bel 10 con lode bravi bravi grazie pregide proseguiamo terza B vai con la Lucia Balestrieri 10 con lode si prepari Lucrezia Maria Fossa li ho visti i genitori li guarda lì come applaude guarda 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 poi abbiamo ah Lucrezia Maria Fossa 10 con lode eh Sofia Lemma con 10 e lode Irene Perlini 10 Amanda Rossi 10 non c'è però il 10 è il suo e poi abbiamo Maria Sofia Wisniewski 10 con lode bravi 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 si prepari la terza C aspettando il fotografo perché lo abbiamo non è che stiamo facendo questi perché siamo cattivi o abbiamo del masochismo da regalare ma perché purtroppo era impossibile fare una cerimonia con tutta la movimentazione ci sono delle regole insomma lo sapete come si ammessi anche il fotografo non sapeva cosa lo aspettava grazie 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 allora possiamo proseguire con la terza C esatto e partiamo con Camilla Cammarota bel 10 ma che è amica vostra questa e ancora Gaia Di Jacovo 10 con lode oh Cristian Giunti 10 con lode Rachele Rachele non c'è Rachele si porta a casa un bel 10 e Arianna Sisa anche per lei un 10 bravo Thomas hai avuto un'ottima idea perché la musica ci eleva un po' lo spirito e sottolinea la bravura di questi ragazzi andiamo terza D facciamo l'ultima foto aspetta aspetta l'ultima foto l'ultima foto allora con la terza D abbiamo Fabio Barrocal del Hoso 10 non c'è giustamente sarà andato a farsi un giro Linda Buscaglia 10 con lode Alessandro Pagano Alessandro Pagano si prepari perché anche lui 10 Alessandro Mattia Pieretti 10 Francesco Remedi 10 bravi ragazzi perfetto anche per loro la foto terza E Chiara Cartolari 10 con lode Antonio Gagliardi 10 Antonio non c'è Tommaso Giannoni 10 con lode Arianna Ranocchi 10 Arianna Ranocchi non c'è e Luca Sciannameo 10 con lode eccolo qua bravi ragazzi foto di gruppo per rosa F tutte e due tutte e due non ci sono nomi strani eh allora Jacopo Crescentini della terza F che si è preso un bel 10 poi abbiamo Noemi Malica Sorrentino 10 vai che non ti sbagli una certezza una garanzia terza F foto di gruppo fatta immagino grazie come va la schiena tutto bene terza G terza G abbiamo Filippo Morisco 10 Filippo dove sei? non ci sei? non c'è il 10 è per te comunque Pietro Remedia 10 eccolo ragazzi siete tutti sparpaglietti poi abbiamo Gabriella Savin che ha preso 10 vai brava Gabriella non c'è? foto c'è? c'è Gabriella? Gabriella? no non c'è la foto di gruppo l'abbiamo fatta? è uno quindi sì si può dire sì e allora noi ringraziamo la preside grazie per il suo supporto la presenza grazie per il supporto e soprattutto per l'ottimo veramente ottimo lavoro che fate coltivate i nostri ragazzi ormai me ne sento un po' anche miei perché se il mondo sarà migliore sarà merito loro quindi allora per l'istituto comprensivo Leopardi cominciamo con la terza A Greta Gatta 10 il sorriso di Greta passiamo a Lucrezia Merli 10 con Lode e qui c'è una sfilza di Lode eh Camilla Palanghi 10 con Lode Leonardo Pianosi 10 con Lode e c'è la clacca dove è la clacca? vogliamo fare insare anche la clacca per favore? Anna Pierantoni eccoli là guardali là 10 con Lode non c'è Elena Piovaticci 10 con Lode questa è un'ala un po' indisciplinata eh e Irene Tirloni 10 era un po' una scuola eccola eccola belli belli vai vai terza B Giovanni Bartolucci dov'è dov'è Giovanni? si è alzato in piedi Giovanni? non lo vedo ah è lì 10 con Lode Giovanni Elena Consani 10 non c'è Lea c'è? ecco la ti eri nascosta perchè? vai Elena brava Elena vai 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 corri verso la fantastico total black anche a me piace il total black complimenti Lea Fervari 10 con Lode ho pronunciato bene eh? insomma sapevo che non dovevo chiederlo non bisognava chiederlo mai chiedere troppo Luca Galeazzi 10 con Lode no Thomas mai chiedere mai fare una domanda di cui non si vuole ascoltare la risposta un po' come quando si parla con la moglie Matteo Signoretti 10 Filippo Ugolini 10 con Lode e Martina Zolfanelli 10 con Lode bravi vado ancora avanti c'è l'idea in pieno ritmo musicale bellissimo e no mi sono emozionata oh allora abbiamo Camilla Cartoceti 10 10 Maria Luce di Dato 10 Ludovica Giulianelli 10 Nicola Mengacci 10 con Lode Alessandro Molpedo 10 non ti sbagli Elena Nicolini 10 Elia Panaroni 10 con Lode Diego Pandolfi 10 con Lode non ti sbagli era la terza C andiamo con la terza D con il suo voto musicale della Barconi Big Banda Linda Danti 10 con Lode brava Linda eccola Davide Scornis con un bel 10 i nostri dirigenti scolattici meravigliosi ragazzi due anni così non ci saranno più non ci saranno più Cristian Gorini 10 Mattia Polverigiani 10 e ancora Francesco e ancora Francesco Ugolini 10 con Lode vado io per la terza E? siamo in ritardo? allora abbiamo per la terza E Paride Allegrezza 10 10 non c'è Sara Angelucci 10 con Lode bravissima Francesca Cioppi 10 con Lode grande Melissa Merluzzi 10 con Lode Emma Sancisi 10 con Lode dovrò ripagare il microfono perché urlo troppo vero? dov'è Colocci? grazie istituto Galilei grazie dottoressa Vencarelli partiamo con la terza Alice Tombari Alice Tombari con un 10 con Lode c'è Alice? no Emma Paolini 10 arriviamo anche da Emma che sicuramente avrà vicino a sé Melissa Rosati speriamo no non c'è anche per Melissa c'era un bel 10 faccio io anche la terza E? vai 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 Lucia Amagliani 10 vai Giulia Petta ancora un 10 sotto vai con Francesca Guidi 10 con Lode della terza C aspetto il fotografo poi abbiamo Nicolas Rocchi 10 con Lode bravo Nicolas Beatrice Valeri 10 con Lode ragazzi adesso mettiamo lo sprint eh Chiara Balducci 10 Matteo Bastianoni 10 vado io con la terza D vai sono gli ultimi aspetta foto di gruppo il fotografo è un santo quanto gli dobbiamo dare a questo fotografo? non sarà mai abbastanza esatto allora della terza D ragazzi eh potrei fare l'animatore dei villaggi no eh? tutto Melissa Falcinelli 10 terza D terza D non c'è non c'è mi dicono dagli spalti Noemi Ferri 10 10 non c'è non c'è ragazzi l'estate giustamente a metà che volete vengono qua Greta Malerba 10 wow doppio applauso per Greta grazie Matteo Roberti 10 Sofia Tardella 10 no 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 ok allora noi salutiamo la Galilei che su quindici cento quattro lodi grazie ragazzi buona estate un applauso un applauso di quelli scroscianti io ero pronta ad iniziare perché non ero al sole giustamente quindi scusate ragazzi grazie mille complimenti buona estate allora voi che siete il bene più profondo e importante interverrete da protagonisti quindi la festa è per voi allora andiamo iniziamo con la consiglia degli attestati iniziamo dalla nuova scuola storoni noi chiameremo il dirigente che prenderà gli attestati poi li consegnerà direttamente a voi voi rimarrete dove siete vi alzerete in piedi quando verrete chiamati e riceverete l'attestato io inizierei con la coordinatrice della nuova scuola Francesca Fornasiero che chiediamo di avvicinarsi eccola qua ehi grazie eccoli qua allora cara dottoressa Fornasiero cominciamo con la premiazione di questi bravissimi ragazzi iniziare con Francesco Gardellini 100 con lode che è assente cominciamo subito con l'assente glielo consegneremo andiamo avanti Maria Elena Brancati è assente anche lei 100 comunque non glielo togliamo assolutamente Francesca Pastorello e invece Francesca è presente anche per lei un bel 100 complimenti Francesca sempre per lei la nuova scuola Piccinini il liceo scientifico liceo scientifico Daniele Simoncelli per lui un 100 con lode bravo Daniele e Arianna Durazzi anche per lei un 100 e non c'è e la salutiamo e la ringraziamo poi consiglieremo l'attestato alla famiglia quando lo vorrà ritirare grazie grazie mille grazie mille benissimo vado io allora abbiamo della quinta Michele Berlucci 100 Camilla Curzi 100 Annabella Cral 100 con lode Filippo Paladini 100 con lode Ilaria Pizzagalli 100 con lode Bene Davide Avanzolini 100 con lode Giacomo Gasparri 100 Davide Laci si prepari per prendere un 100 lode non c'è non c'è non si prepara è già si è preparato Antonaccio Tigiu Daniel non c'è non è con noi ci pensa magari poi Chiara Catenacci 100 ci sei Chiara? Chiara eccola lì eccola Chiara in azzurro vestita poi vogliamo Sara Cinotti Aurora Generali 100 100 100 Chiara Generali che non so se sono sorelle siete sorelle? No? Comunque 100 con lode segui Giulia Berti 100 con lode Giulia? non c'è Giulia non c'è Giulia va bene Martina Berti 100 eccola qui grazie Martina Eleonora Rodilosso 100 grazie Erika Sorbini 100 Luca Artusio 100 con lode Alice Alice Olivieri 100 Matteo Pernacchini 100 ragazzi la foto di gruppo non la facciamo tutti in piedi non la facciamo? benissimo sì sì eccoli lì c'è l'ha? troviamo la posizione corretta eccolo qua proseguiamo con il CEO artistico Mengaroni iniziamo subito con Anita Bartolini 100 con lode 100 con lode yuhuuu dove è? non c'è va va mattia Criscione andiamo avanti con Mattia Criscione 100 eccolo qua Vittoria De Palma anche per lei un bel 100 brava Vittoria Serena Miglietta 100 con lode e ancora Alice Nasoni e anche per lei 100 con lode complimenti Michaela Cornea non c'è anche per lei un 100 Tommaso Pagnetti eccolo Tommaso 100 anche per lui bravo Anita Pelinga Anita Pelinga non c'è credo anche per lei comunque un 100 Francesca Redondi 100 con lode eccola qua e ancora Sofia Serafini anche per lei un 100 con lode vado 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 Giulia Balloni 100 Emma Camilloni 100 qua la musica aiuta Luca Giovanetti si prepari 100 Giada Giunta 100 c'è Giada Giada ci sei? brava dai dai oh Issa dai oh Issa brava Gaia Gaia dove sei Giunchi non c'è Eleonora Olivieri ah no 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 Eleonora Massa Eleonora Massa 100 con lode vai Eleonora mi scuso con Eleonora Alice Alice Olivieri 100 non c'è Emma Simoncelli 100 con lode brava bravissima Esther Simoncelli 100 e proseguiamo con Elena Baraldi 100 non c'è neanche lei Giorgia De Carolis 100 brava Martina Di Dio 100 con lode non c'è non c'è Laura Palazzi 100 Arianna Semprucci 100 con lode eccola qui c'è 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 proseguiamo con Laura ah ti voglio qui c'è Laura intanto diciamo non c'è allora no scherzo Laura Brahimai ci sei passando c'è Laura Laura Di Santo Laura Di Santo con 100 Alice Oliveto 100 con lode grazie ritira Monica Monica Cruscuolo 100 oh Cruscuolo va bene 100 complimenti a te Alessandro Sarti anche per lui un bel 100 bravi ragazzi fatto di gruppo chiediamo al chi sostituirà il presidente Roberto Franca di avvicinarsi farsi riconoscere eccolo eccola è tra noi la prof Erika Ena Erika Ena buonasera pro il Santa Marta partiamo con Giulia Sideri 100 eccola brava Giulia Martina Tamburini anche per lei un 100 ah qui ci provo io vai Weiji Guo non c'è non c'è non c'è non c'è un 100 per lei comunque era 100 Filippo Roberti 100 grande Sofia Calzolari 100 non c'è Rita Roberta Esposito 100 ragazzi questi sono Master in pasticceria poi abbiamo Giada Galli 100 Valeria Parcesepe 100 Viviana Sabino 100 in sala vendita Sharon Pia Diamantini 100 non c'è Pietro Caldari 100 Sara Eusepi 100 Pasqualina Malafronte salutiamo i nostri 13 genti 100 bravissimi e andiamo avanti e noi proseguiamo con Lipsia Benelli Hanit Dervisci con un bel 100 c'è? c'è non c'è Ion Rosca 100 100 niente andiamo avanti con Gloria Cannucci un bel 100 per Gloria non c'è Jessica Cardinali eccola qua un bel 100 anche per lei grazie Jessica Jenny Donnini un 100 piano piano perché deve arrivare a distribuire gli attestati che erano chiaramente i nodi ma i primi non c'erano quindi aspetta deve passare dai eccola eccola quindi Jenny Donnini l'abbiamo chiamata c'è eccola qui anche per lei un 100 Anna Mattei Anna Mattei non c'è mi dicono per lei era un 100 colore Alessia Scarpa Alessia Scarpa c'è non c'è anche per lei era un 100 Miruna Fabia Stan eccola qua 100 anche per lei è lì è lì eccola Maria Luce Biagini Maria Luce Biagini per lei era un 100 niente Sofia Fenara 100 con lode non c'è proseguiamo proseguiamo questa è praticamente impossibile adesso vedete il cavaliere passa la palla a me lo dichiaro ufficialmente dovevamo imparare avremmo dovuto imparare l'indiano Viada Kmond Ranajin Wekaroku Mujalengade io ti chiedo umilmente scusa grazie ma il tuo 100 ti precede e poi ancora Maryam Ben Mbarek anche per lei un 100 e Sofia Campolucci anche per lei un bel 100 complimenti allora ecco foto di gruppo perché è un momento importante intanto adesso ci avviciniamo al cecchi Samuel Bianchi con 100 elode Samuel Bianchi non c'è mi sembra di no di non vederlo Matteo Casadei 100 non c'è Anna Zenobi 100 ancora Gaia Lucchetti 100 eccola qua complimenti complimenti Gaia anche per te la foto Luca Pierotti 100 eccolo qua Andrea Andrea Ragaini 100 con lode complimenti Andrea e ancora e ancora Alex Rinaldi 100 con lode per Alex Alice Stroppini anche per lei 100 con lode dai eccola Edoardo Righi per lui un 100 Alessia Curatolo 100 eccola qua Marco Saccomandi Marco Saccomandi anche per lui un bel 100 Federico Uguccioni eccolo e ancora Luca Miliffi Luca Miliffi con un bel 100 anche per lui complimenti Luca Tommaso Donati un bel 100 anche per lui e Agnese Rossi eccola qua anche per lei un 100 bravissimi ragazzi in cecchi complimenti ora mentre i ragazzi fanno la foto di gruppo il preside Riccardo Rossini padrone di casa in questo momento ci raggiunge per prendere il malloppo e si va alla premiazione dei Marconi Boys allora abbiamo Giulio Brollini 100 non c'è Giulio e allora cerchiamo Marco Ceccarelli eccolo qui yeah Simone Ippolito 100 e lode Mattia Lenti 100 Francesco Francesco Lisotti 100 Elena Pagano 100 Daniele Polei 100 vuoi la mano? vado io? vuoi fare tu? feglici tutto? io faccio quello dopo allora vai Sofia Brisigotti 100 Sara Sofia Brisigotti non c'è ah Sara Caca 100 Pollode Giulia Fattori 100 Giulia Fattori Yuhuuu Elisa Nicolini Mattia Sacchetti 100 Tommaso Arcangeli 100 Tommaso Arcangeli 100 collode Sara facciamo fitness si prepari Sara 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 Arseni 100 collode Ottavia Campanile 100 collode Alberto Francesconi Alberto Francesconi non c'è? comunque erano 100 collode 100 complimenti Elena Malerba 100 grazie Elena Alessia Parillo 100 collode Camilla Ravocchi 100 Camilla Ravocchi Giulia Rossaro 100 collode 100 collode Angeli 100 Michele Cavallini Eccola 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 Laura Angeli Michele Cavallini c'è? Era un meraviglioso 100 Matilde Del Monte non c'è Sara Gaudenzi 100 collode Eccola Emily Nicolini 100 Eccola Giulia Belligotti 100 C'è? Giovanni Bosio 100 C'è? C'è? Giovanni Bosio Islen Cardinali 100 Lorenzo Cecchettini 100 Giampiero C'è? 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 Cento. Neanche, salutiamola. Greta Di Cecco, cento. Non c'è. Giorgia Fusini. Neanche. Lucia Ghiselli. Eccola, eccola, eccola. Prima fila, prima fila. Adesso sì, siamo in viaggio per la maturità, molti sono già partiti. Chi era? Bravissima, vai. Giacomo Ruggeri. C'è, eccolo lassù. Allora, Matteo Bellino, cento collode. Ok. Leonardo Cacciaguerra Buocci, cento. Davide Briglia, cento. C'è anche lui, eccolo qua. Giovanni Costantini, cento collode. Wow. Sofia Grace Rossini, cento. Che c'è anche lei, eccola qua. Aspettiamo che sta facendo ancora la foto. Eccola qui, Sofia Grace. Vai. Francesca Badioli, cento. Caterina Ceccoli, cento. Non c'è neanche Caterina. Ok, andiamo avanti. Lucia Magnani, ragazzi, cento. Greta Mandrelli, cento. Lorenzo Mini. C'è, eccolo qua. Si prepari Simone Naglieri, cento. Eccolo. Poi Nicolo Sancisi, cento. Non c'è. Sara Baldelli. Eccola lì. Vai. Sara Bergamaschi. Non c'è. No, no. Anche perché o è Sara Baldelli, cento. O Gaia Bergamaschi, cento collode. Perfetto. Ve lo detto, Gaia non c'è. Chiara Dinauta, cento collode. Eccola qua. Eccola. Alberto Girardi, migliori. Sì. Non c'è. Maria Vittoria Pierini. Eccola qui. Jacopo Sanchioni, si prepari, cento e lode. Eccolo. Luca Serafini, si prepari, cento. Matteo Vergari. Non c'è Matteo, grazie. Beatrice Angeli, cento. Non c'è. Elia Binda, cento. Neanche. Chiara Cardoni, cento collode. Eccola. Martina Martinelli, cento collode. Eccola qui in prima fila. Federica Moretti, cento collode. Giorgia. Ugo Lini. C'è Giorgia. Eccola, si era in alto, si è già alzata. Eccola qui. Grazie Giorgia. Cento collode. No, cento collode. Micol Zarri, cento. C'è. Matilde Zonchetti, cento. Elia Bondi, cento. C'è la clac. Alessia Cardelli, cento. Ditemi se c'è. Anita Di Paolo, cento. Alessio Lovental, cento. Anche gli ammiratrici. Matteo Polidori, cento. Elena Zaffini. Ilaria Abbondanza, cento con lode. Lorenzo Clini, cento. Giulia Covini, cento con lode. Ludovica Ricciotti, cento. Eccola qui. Facciamo fare il contorsionismo al preside. Il preside Roberto Risotti è già preoccupato, vede quello che lo aspetta. Alessandra Rebecca Serafini, cento con lode. Marco Tittarelli. Cento. Andrea Farina, cento con lode. Riccardo Gattoni, cento con lode. Alessandro Mencarini, cento. Eccola. Vai Alessandro. Gloria San Giorgi, si prepari con cento. Giuliano Fiorelli, cento. Guardami se c'è. Giorgio Micheli, cento. Eccolo c'è. Giorgio Micheli, no. Margherita Beloggi, anche per lei, cento. Davide Lepore. No? Sì c'è. Lassù, lassù, lassù. Madonna che... E Nicolò Santi, anche per lui, cento. Credo che non ci sia. Ma abbiamo però concluso il... Liceo scientifico Marconi. Complimenti a tutti. Adesso siamo nel rush finale. Tenete duro. Siamo al liceo Mamiani, liceo classico Mamiani. A premiare Roberto Lisotti. Partiamo con Caima Halfat. Eccola. Non c'è? Non c'è. Costanta Lucia Durante. Neanche. Sempre cento. Eleonora Ferri. Cento con lode. Eccola qua. Che ha già avuto l'attestato. Eleonora Ferri. Elena Ravagnin. Eleonora Ferri ha avuto cento con lode. Cento con lode anche per Ravagnin. Elena. Francesco Giovanni Rossino. Cento. Eccolo qua. Rebecca Sani. Cento con lode. Leonardo Lucchetti. Leonardo Lucchetti con un bel cento. Sì, sì. Eccolo qua. Giulia Marchesani. Non c'è. Andrea Sanchioni. Eccolo qua anche per lui. Cento con lode. E ancora Vittorio Baffoni. E non c'è. Elena Benedetti. Eccola qua. Cento per Elena. Alessandro Casula. Che non c'è. Margherita Pascucci. Eccola lì. Tiara Tonti. Che non c'è. Elisa Ugolini. Cento con lode. Complimenti. Maristella Zito. Cento. Ora ti fermo un secondo perché diamo spazio al fotografo di raggiungere un attimo il liceo Marconi e farla foto di gruppo. Intanto diciamo che dal Mamiani 390 maturi in totale, 65, 128 con la lode, 93 in totale. Allora io proseguirei. Quattro preso 100. L'hai fatto. Ok. Ok. Allora proseguiamo con liceo Mamiani Scienze Umane. Ilaria Bertozzini con cento elode. C'è? Eccola qua. Sempre in piedi. La foto l'ha fatta? Bravissima. Gaia Di Domenico. Cento. Eccola qua. Melina Guerrieri Gonzaga. Che non c'è. Margherita Santi. C'è? Ragazzi, aspettate un secondo, aspettate un attimo. Andiamo velocissimi, però rimaniamo tutti insieme, ok? Allora siamo a Gemma Nicole Testa, con cento. Eccola qua. Siria Di Napoli. Cento con lode. Non c'è? Non c'è. Laura Mosciatti, con cento. Eccola qua. Sara Nicotra, con cento. Non c'è. Martina Simoni. Martina Simoni c'è? Eccola qua. Gaia Tamburini. E vai. Non c'è, non c'è. Eleonora Mandoloni, cento. Alice Palazzi, cento. Enrico Scavolini, cento. C'è? Ragazzi, alzatevi. Alessia Berardi, cento. Alessandro Casati, cento anche per lui. Non c'è. Eleonora Cerri. Cento con lode. E poi ancora Vittoria Ligi, cento con lode. Eccola qua. Luca Ruocco, cento. Sonia Simoncelli, cento con lode. Elisa Bellini, cento. Teresa Casadei, cento. Tomas Marcheselli-Bandelli, cento. Agnese Paolucci, cento. Greta Pari, cento. Isotta Perugini, che non c'è. Angelica Pierleoni, cento. Martina Boccalini, cento. Non c'è? Sì, c'è. Eccola qua. Emily Cardinali, cento. Qua davanti. Sara Cerri, cento con lode. Siam Kenofu, cento. Enrico Mancinelli, cento con lode. Sara Romani, cento con lode. C'è Martina Signoretti, cento. Mafalda Tinti, cento. Eccola qua. Luca Girolimini, cento con lode. Victoria Guidi, cento con lode. Sara Righini, cento. Ludovica Simoni, cento con lode. Sì, loro hanno già avuto l'attestato. Martina Urani. Mattia Bartoli, anche per lui cento. Allegra Franchi, cento. Eccola. Thomas Guidi, cento con lode. Ilde Manieri, cento. Alessia Merli, cento. Eccola qua. Bianca Pasqualini, cento. Sofia Tolosa, cento con lode. Sara Allegretti, cento con lode. Eccola qua. Micol Fabri, cento. Alice Paoletti, cento. Virginia Pecci, cento con lode. Anna Chiara Santacà, Silvia Serra, cento con lode. Martina Gatti, cento. Eccola qua, cento. Sofia Mazzotti. Lucia Mercolini, cento con lode. Giorgia Pensalfini, cento con lode. Giulia Scarpetti, cento. Arianna Taboni, cento. Giulia Zagaglia, cento. Ci siamo, ci siamo quasi. Melissa Antonioli, cento. Melissa Antonioli, eccola qua. Gabriele Bartolucci. Umberto Binda, cento. Sara Foschi. Aspetta, aspetta, aspetta che stava facendo la foto. Tatatara. Tatatara. Sara Foschi, abbiamo detto. Chiara. I due ragazzi. La Paglia. Chiara La Paglia, c'è. Giulia Piferi, cento. Bravi. Anita Del Bene, cento con lode. Eccola lì alla sinistra del fotografo. Chiara Mezzolani, cento. Davide Piccini, cento. Claudia Ragaini. Emily. Emily. Roberti. Roberti, cento. Bravissimi, andiamo avanti. Chiara Carboni, cento. Ilaria Gabrielli, cento. Eccola qua. Vittoria Giulianelli. Cento con lode. Vittoria Giulianelli, cento con lode. Gianluca Leonardo, cento con lode. Eccolo qua. Camilla Magnani, cento. E Alessia Romaniello, cento. Cento. Bravi. Cento. Cento. Bravissimi. Una maratona. Una giornata indimenticabile. Siamo arrivati. Fatevi un grande applauso. Fate anche una bella ola se volete. Provateci. Perché la giornata è tutta vostra. Grazie di cuore. Grazie ai genitori e alle famiglie. Grazie per la pazienza. Grazie per l'impegno. Ragazzi, in bocca al lupo per la vostra vita. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.